Io chiamerei la concentrazione del nostro pubblico canterino e qui al centro del nostro palco un mago che riscuote sempre tantissimo successo, il mago gentile, attenzione! Bel jolly, bel jolly! Bene, bene, bene! Caro Pino, vieni qui vicino a me, perfetto! Io gioco oggi con due mazzi di carte, quindi un gioco un pochino anomalo, una dorso rosso e una dorso blu. Via per adesso il mazzo a dorso rosso e guardate bene il mazzo a dorso blu, 54 carte, una diversa dall'altra. Pino, sceglierai una carta tra queste, contento? Mi direi semplicemente stop, quando tu vuoi. Stop! Prendi pure questa carta e la diciamo pubblicamente, tutti la possono scoprire. A tutti? A tutti, vai! Allora, eccola qui, 4 di picche. Molto bene, 4 di picche, puoi inserirlo all'interno del mazzo, io nel frattempo prendo due vuoi, prendo un cappello a cilindro, ce l'hai? Perfetto, tutto il mazzo di carte viene inserito all'interno del mio cappello, così, vai. Ora tocca il mazzo chiaramente a dorso rosso. C'è un elastico, ecco qui, e mostriamo ancora una volta agli amici che ci seguono che si tratta di un mazzo regolare, questo è importante. Bene, elastico, e perché metto l'elastico, Pino? Non lo so. Perché metto l'elastico? Per escludere la manipolazione, l'abilità. Apri la mano sinistra. Io lo metto per la pancia. Ok, con la mano destra alza la metà dove vuoi. Alza la metà, Alberto. In un taglio e guarda quella carta che non vuole dire. Io mi giro, guardatela voi. Eccola qua. Si vede, si legge? Perfetto. Ok, fatto. Ci siamo, benissimo. Ecco qua. Giego l'elastico, tutto quanto chiaramente ancora una volta all'interno del mio cappello, anche l'elastico, tutto quanto, e a questo punto gioco invece con un ombrello. E perché? Attenzione, è strano. Guardate il mio cappello, comincia a essere un pochino bizzarro. Facciamo due passi indietro, Pino? Proviamo, dai. Attenzione. Attenzione al cappello, occhi su di lui. Hola. Ci siamo quasi. Forse riesco a fare... Questo, vai! E prendo al volo solamente una carta, che credo sia la prima carta, il quattro di Bicke. Fantastico! Brividi! Ma vogliamo dire adesso, a voce alta, qual era quella carta che tu hai solo pensato e tutti gli amici hanno visto. Era il due di cuori, ma la vedo difficile, sono scelte tutte le carte da lì. Il trucco c'è, ma non mi dona, ma guarda qui, due di cuori. Brividi allo zecchino d'oro, bravo! Ci mettiamo qua e il Mago Gentile sparisce. Grazie per questo, Jolly, giocato benissimo e vengo qui alla giuria e chiederemo...